Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei nuovi Deuter Trail Pro, gli zaini appositamente studiati da Deuter per la via afferrata. Come state vedendo abbiamo sia il modello maschile che il modello femminile e adesso insieme ne vediamo pregi e difetti. Iniziamo come al solito da qualche caratteristica fornita dalla casa per questi Trail Pro. Tutti gli zaini di questa serie sono realizzati con lo schienale Airstrips e nel particolare hanno il tessuto Airmesh di Deuter. Nel particolare io ho utilizzato quello da 36 litri da uomo che pesa 1,550 kg e io ho utilizzato quello da donna da 34 litri dal peso di 1,470 kg. Adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo a vederne pregi e difetti. Partiamo dallo schienale. Questo schienale ha una tecnologia di Deuter Airstrips ed è costituito quindi da questi due canaloni imbottiti che fanno sì che lo zaino sia a contatto con la nostra schiena, dando quindi molta stabilità. Dall'altra parte proprio perché il tessuto è attaccato alla nostra schiena questo farà sì che non avremo grandi prestazioni in termini di traspirabilità. Nonostante questo però posso dirvi che questo zaino per essere uno zaino appunto d'alpinismo via afferrata ha una traspirabilità comunque superiore rispetto ad altri modelli della categoria. Dello stesso materiale è costituita la fascia lombare, una fascia molto confortevole, avvolgente, con due tasche rispettivamente sul lato destro e sul lato sinistro, dotate di cerniera, classiche tasche molto comode. La cinghia della fascia lombare non ha dato problemi, anche a pieno carico non si è mai aperta e non ci ha mai dato problemi. Per quanto riguarda invece i chili che ci si riesce a portare con questo zaino non andrei oltre i 7-8 chili. Per quanto riguarda gli spallacci invece sono fatti lo stesso Hermes con cui ho fatto lo schierale. Soprattutto una cosa molto interessante è che troviamo su entrambi gli spallacci degli anelli porta materiali in cui possiamo andare ad attaccare o un classico moschettone che possiamo poi utilizzare oppure i moschettoni proprio del kit ferrata nel momento in cui non dobbiamo utilizzarli. Quindi possiamo proprio andare ad attaccarli uno sullo spallaccio destro e uno sullo spallaccio sinistro e averli riposti. In sé poi naturalmente gli spallacci hanno anche la chiusura pettorale col fischietto per scaricare un po' di peso. Passiamo alla parte posteriore di questi Deuter iniziando a vedere i lati che vi pronuncio sono asimmetrici quindi li vediamo entrambi. Nel lato di sinistra troviamo innanzitutto due cinghie, quella bassa non apribile, quella superiore apribile con clip che servono per andare a comprimere un po' lo zaino e come tasca troviamo una tasca chiusa da zip che ci permette di poter portare all'interno una borraccia anche da un litro senza nessun problema ma chiusa in modo tale che non vada a strusciarsi, non vada a incastrarsi nel momento in cui facciamo una via ferrata. Sulla parte di destra invece sul lato di destra troviamo le stesse cinghie superiore e inferiore ma troviamo una tasca a rete in cui possiamo andare a riporre qualche oggetto in questo caso però l'oggetto resterà all'esterno quindi potrebbe impigliarsi in qualcosa durante una via ferrata. Abbiamo la possibilità invece nella parte posteriore vera e propria di poter portare due bastoncini sul lato di sinistra e la piccozza sul lato di destra quindi non dobbiamo fare uno o l'altro ma possiamo portare anche tutti e tre insieme e poi naturalmente la cosa che salta più all'occhio quando si vede la parte posteriore è questa grossa tasca a rete in cui possiamo andare a riporre benissimo una giacca bagnata ovunque del materiale che dobbiamo portarci dietro del sicuro è molto elastica e ci sta dentro anche abbastanza materiale. Per andare a recuperare gli oggetti nella parte inferiore questo zaino è dotato di cerniera che apre lo zaino a tre quarti e possiamo andare a recuperare davvero anche la cosa messa nel punto più basso dello zaino senza alcun problema. È dotato anche di cinchie per la possibilità di aggiungere il helmet holder che purtroppo non è dato in dotazione. Secondo me questo è un purtroppo grosso comune a casa perché essendo lo zaino pensato per una via ferrata l'Helmet Order mi aspettavo di trovarlo in dotazione con lo zaino. È proprio secondo me la ciliegina sulla torta che manca a questo deuter per definirlo quasi perfetto. Per quanto riguarda l'apertura superiore è quella classica che quindi andiamo ad aprire e chiudere con un semplice raccetto sempre comoda, sempre universale, va bene. Per quanto riguarda il cappuccio abbiamo due tasche, una interna e una esterna, entrambe dotate di zip e anche molto spaziose. La cosa molto apprezzabile del cappuccio di questo zaino, soprattutto quando facciamo le vie ferrate, è che il cappuccio è piatto. Questo vuol dire che quando andiamo a indossare il casco non avremo problemi di stregamento, di strusciare contro il cappuccio dello zaino. Per quanto riguarda infine il comparto acqua, allora abbiamo bisogno portare tranquillamente due borracce sulle parti laterali. All'interno possiamo inserire una sacca idrica con cosiddetta per far uscire la prunga sulla parte anteriore ed è dotato anche di rain cover. Quindi volendo possiamo anche proteggerci dalla pioggia e riusciamo a utilizzarlo anche nel caso di essere fuori un casco. Invece per quanto riguarda i materiali dobbiamo dirci esserci trovati veramente molto bene. Noi lo abbiamo utilizzato un po' a destra e a sinistra facendo ferrate, strusciandoci su roccia eccetera e non ha avuto nessun problema. Inoltre è fatto di due tipi di materiali, nella parte inferiore è un materiale più resistente, il resto dello zaino è un materiale un pochino più leggero. Devo dire che davvero sono fatti molto molto bene, i nostri zaini ormai sono mesi che li stiamo utilizzando per far vie ferrate e non hanno nessun tipo di problema. Arriviamo dunque alle conclusioni per questi Deuter Trail Pro. Innanzitutto i prezzi vengono venduti sui 210€ dal sito ufficiale di Deuter, online si trova a un prezzo decisamente inferiore. Dunque noi li consigliamo? Li consigliamo perché hanno degli ottimi materiali davvero molto resistenti, aspetto veramente da non sottovalutare quando andiamo a fare alpinismo in vie ferrate. E poi veramente mi ha colpito tantissimo la stabilità di questo zaino, che anche quella se non ce l'abbiamo durante i vie ferrate e alpinismo la vedo dura. Grazie a tutti ragazzi, noi una speranza di estate è esauramente esotiva anche per questa recensione, vi ringraziamo per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!